Conosci il tuo cliente ideale? Questa è una domanda molto importante e si lega in maniera incredibilmente indissolubile a quello di cui ti ho parlato nell'ultimo due pillole, ovvero all'elemento differenziante. Questo perché c'è un problema comune che purtroppo si vede e parte sempre da una mancata consapevolezza a livello di marketing e di gestione aziendale. Per cui faccio un passo indietro e parto dall'inizio. Ora, la situazione è questa. La maggior parte degli imprenditori, liberi professionisti che sia, ha un disperato bisogno di clienti e quindi è sempre alla ricerca costante di questi clienti perché altrimenti non riesce ad arrivare a fine mese, non ha proprio da pagare le bollette ed è sempre in difficoltà. Questo però è causato da due motivi. Il primo è quello di non avere il famoso elemento differenziante di cui ti ho parlato prima. Il secondo, che appunto si lega in maniera come dicevo prima indissolubile, è quello di non avere un cliente ideale. Partiamo da quello che fai, quindi quello che offri, chi sei, il tuo prodotto, il tuo servizio, non importa. Quindi partiamo dal beneficio che tu dai al cliente, o meglio che il cliente ottiene lavorando con te. Ora io so che tu potrai fare probabilmente più e più cose, però ci saranno alcune cose che tu sei molto più bravo a fare e quelle dovrebbero essere i tuoi cavalli da battaglia. Ora, fai questo ragionamento. Questi tuoi punti di forza che tu hai, che ti permettono di lavorare estremamente bene, di dare un servizio incredibilmente utile ed efficace che serve al cliente, a quale tipologia di clienti serve? Ti renderai conto che tra tutti i clienti che hai, solo una piccola fetta rispecchia quelle caratteristiche e sono esattamente i clienti a cui tu dovresti rivolgerti e iniziare a sviluppare, a creare la tua azienda attorno a quella tipologia di clienti. Purtroppo quello che viene fatto solitamente è il contrario. Si cercano nuovi clienti a oltranza e poi si è costretti ad una serie di conseguenze, ad accettare delle conseguenze che purtroppo nel lungo periodo fanno crollare il business. Nel senso che farei un marketing inefficace, quindi non riesci neanche a fare un investimento pubblicitario che in realtà sia un investimento, perché si trasformerà in una spesa, in una perdita di soldi. Perché non sarai in grado di dare un messaggio efficace a un determinato tipo di pubblico? In più, cercando di lavorare sempre con x mila tipi di persone, il problema si ripropone di nuovo, nel senso che un cliente vuole uno sconto perché sennò va da un tuo concorrente e tu sei costrato a darglielo. Un altro non è soddisfatto del servizio che gli hai dato perché non era il tuo servizio di punta. Un altro ancora si lamenta perché non sei stato preciso con i tempi e perché non lo sei stato? Probabilmente perché hai preso dei lavori che, come dicevamo prima, non sono i tuoi lavori principali, quelli su cui dovresti concentrarti e ti fanno perdere tempo. E tutte queste cose sommate nel lungo periodo purtroppo faranno colare a piccola tua azienda, anche se al momento sono oggettivamente il tuo unico salvagente. Quindi qual è il primo passo che devi fare? Ovviamente comprare Business Fire Up, nel senso che è una battuta. Chi vuole comprare il mio corso è disponibile e ci sono tanti contenuti interessanti. Però quello che devi fare è iniziare a focalizzarti su quelle cose in cui sei veramente bravo a fare. Da qui devi capire quali sono le caratteristiche che hanno i clienti che hanno bisogno di questo servizio. A quel punto tutta la comunicazione che devi fare deve essere mirata a quel tipo di pubblico preciso. Questo perché nel momento che riuscirai ad acquisirlo come clienti riuscirai a offrire un servizio effettivamente di qualità perché è la tua specialità, è quello in cui tu sei molto bravo. Non avrai ritardi, non avrai problemi, lo farai tutto sommato senza fatica o perlomeno lo farai con meno fatica rispetto ad altre cose. E questo ti permetterà soprattutto di fare investimenti pubblicitari, ovvero spendere 100 per incassarne 200, 300, 400, 1000 e quindi iniziare piano piano a ricostruire completamente la tua azienda. E questo è molto importante perché altrimenti, ripeto, sei su una barca che piano piano sta affondando. E questo non è una cosa oggettivamente auspicabile per nessuno. Quindi fai questi due semplici esericizi, trova quali sono i tuoi punti di forza, le tue caratteristiche e trova i clienti che ne hanno bisogno. Se tu sommi queste due cose, emetti in moto un pochino di marketing, ti assicuro che i risultati arriveranno in maniera molto veloce e ti permetteranno piano piano di iniziare a escludere tutti quei clienti che ti danno fastidio, che ti creano problemi, magari ti pagano in ritardo. Insomma, ti fanno lavorare su quelle cose dove magari sei capace di farlo, ne sei in grado, ma non sei un campione del mondo. E piano piano con il tempo lo scopo è quello di riuscire ad avere tutti i clienti che sono interessati al tuo servizio di punta e ti assicuro che inizierai a vivere l'attività imprenditoriale o quella da libero professionista in maniera molto, molto più serena. Con questo è tutto. Se è trovato utile questo video, clicca mi piace e condividi. Io sono Massimo Martinini e ci sentiamo domani. Ciao! Aggiungo, ovviamente come ripeto spesso, se vuoi approfondire tutto questo argomento ti consiglio il mio corso Business Fire Up. Inoltre, ti ricordo di iscriverti alle mie pillole di business via mail, in modo che tutte le mattine alle 7 riceverai la mia pillola di business, a volte riguardante marketing, business e in alcuni casi crescita personale. È l'iscrizione gratuite e ci si può cancellare con un clic. Con questo è tutto davvero, io sono Massimo Martinini e ti saluto. Ciao! Ciao!